Cosa prova una donna quando capisce che il ragazzo che le piace è interessato a un'altra? Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Ecco sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net Trovate i vari percorsi di miglioramento, ho creato per voi, scegliete quello che fa per voi. Beh ovviamente proverate lo sconforto, perché se lo desidera, se è interessata a lui, sapere che lui è interessato a un'altra non è proprio una cosa stupenda. Questo è diverso ovviamente se prima il ragazzo ci avesse provato con lei e lei l'avesse rifiutato. Perché? Perché in questo caso il fatto che lui sia interessato ad un'altra potrebbe essere un segnale di forte attrazione. Una strategia che banalmente ha messo in atto lui, ovvero si è spinto fino a un certo punto, è stato rifiutato, ha detto bene, sai cosa faccio? Non continuo con te. Mi butto su un'altra o faccio vedere che sono interessato a un'altra. Così da far rimanere la ragazza a bocca asciutta e quindi generare in lei quell'attrazione per quella persona, per quel ragazzo. Perché? Perché adesso non è più interessato. E quindi quando ti viene mostrato interesse verso la tua persona e dopo te lo tolgono, tu rimani di sasso e lo rivuovi indietro. E questo ti spinge a tornare da lui. È una strategia piccolissima di manipolazione, un po' anche atta appunto a farti muovere un po' il culo e farti capire che hai perso qualche cosa e quindi colpa tua e devi tornare a inseguire. Quest'ultima è probabilmente più potente della prima che ho citato perché ti fa proprio sentire male, perché capisci che hai perso qualcosa. Se invece una ragazza è interessata a un ragazzo che in partenza non la calcolava ed era interessato ad un'altra, in quel caso è semplice competizione. Lei vuole lui, ma lui vuole l'altra e quindi lei dovrà fare tutto ciò che può per cercare di conquistarlo. Ma se prima lei era stata cercata da questo ragazzo e poi si è lasciato scappare e questo è stato da un'altra, ecco, gli si sente ancora peggio perché dice cavolo ma me lo sono fatto scappare, devo andare a riprendermelo. Quindi il ragazzo è probabile che usi questa leva per spingerla a fare qualche cosa, ad accorgersi che lui esiste e che anche lui può essere desiderabile per altre ragazze. In ogni caso proverà per lui attrazione. Perché? Perché lui sta sfruttando quella che è la presselezione, che inizia già a partire con una ragazza, non sape per forza che siano un esercito di donne, ovvero presselezione già citato come concetto, quando sei desiderato da una ragazza, per la ragazza che vede questa situazione da esterna, risulterai più attraente. Perché? Perché sei stato scelto prima di un'altra donna e lei entrerà naturalmente in competizione con lei cercando di portarti via. Questo solo se la ragazza un minimo ti conosce e provava già qualcosina prima, cioè lei è l'indifferente. Ecco, mentre se sei una persona che non conosce ma vede che sei circondato da donne, semplicemente il tuo valore ai suoi occhi aumenta e per lei sarai più attraente. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che è qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net e trovate i vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.